La nuova pavimentazione del Ponte Vecchio è incompatibile con il monumento dal punto di vista estetico e anche alcuni dei materiali scelti per il restauro sono incompatibili. Parole pesanti come Macigni, certamente più pesanti dei sassi del Brenta, che verranno scelti, chissà come e quando, per il simil terrazzo veneziano che verrà posato come pavimentazione del Ponte Vecchio. Parole pesanti, dicevamo, che non arrivano dalla politica o dall'opinione dei cittadini, che in ogni caso resta spesso inascoltata, ma che giungono dagli architetti che fanno parte della Commissione Locale per il Paesaggio, riunitasi il 20 gennaio su richiesta del Comune per discutere proprio della pavimentazione. Dalla relazione emergono alcune posizioni molto interessanti, a partire dal fatto che nella documentazione presentata manca un elaborato progettuale con le simulazioni fotografiche della nuova pavimentazione contestualizzate nell'attuale situazione del Ponte. Ma non finisce qui. Ecco cosa dicono gli architetti. L'esame del campione di pavimentazione evidenzia un'incompatibilità estetica e relativa alla materia con il luogo in cui viene collocata, si legge nella relazione. La soluzione progettuale proposta per le opere previste prevede l'utilizzo di materiali incompatibili con il restauro, prosegue il documento, che nel finale riporta anche la frase. In subordine si segnala che il manufatto proposto non sembra rispettare la normativa di legge. Ovvio che la commissione locale per il paesaggio non emette pareri vincolanti, ma allora per cosa è stata convocata?